Sono rivelazioni scottanti, quelle pubblicate dal sito di informazione salvadoregno e il Faro, che accusano il governo del paese di avere preso accordi con le gang criminali locali per tenere sotto controllo le violenze. Ora sappiamo che i disordini non si sono calmati grazie a un'operazione di polizia organizzata dallo Stato, ma a un accordo con le gang a cui è stato chiesto di fermare la scia di omicidi. Questo vuol dire che hanno la chiave per aprire o chiudere il rubinetto all'origine dello spargimento di sangue dei cittadini salvadoregni. Proprio la rottura del patto tra il governo e le bande criminali sarebbe all'origine dell'ondata di violenze che ha insanguinato il paese a fine marzo, quando 87 persone hanno perso la vita in soli due giorni. Da quel momento El Salvador ha instaurato uno stato di emergenza per cercare di tenere sotto controllo criminali, cittadini e media. Solo nella nostra redazione ci sono 22 giornalisti, spiati dal software Pegasus. Per un anno e mezzo siamo stati perseguitati, accusati di commettere crimini, di allearci con i terroristi, di riciclare i soldi sporchi o evadere le tasse. Ci sono tuttora giornalisti in esilio a causa degli attacchi e delle minacce di Bukele. Quando il partito di Nayib Bukele ha preso il controllo dell'Assemblea legislativa, ha sostituito tutti i giudici della Corte Suprema. Un segnale chiaro della direzione che Bukele vuole dare a El Salvador. Questo cambio ai vertici della giustizia, avvenuto esattamente un anno fa, è stato un punto di svolta per il paese centroamericano. Lo smantellamento della democrazia aveva già raggiunto un livello di non ritorno durante il mandato presidenziale. Ciò che sta succedendo a El Salvador, secondo il direttore del media Il Faro, dovrebbe fare reagire tutta la comunità internazionale. Bisognerebbe supportare e accompagnare le associazioni della società civile, le organizzazioni umanitarie, l'università e la stampa indipendente a El Salvador. Agire è urgente, secondo il giornalista, che ricorda l'esempio del Nicaragua, dove dopo anni di disordini ignorati dalla comunità internazionale, il presidente Daniel Ortega gestisce il governo con il pugno di ferro.